Figlio di Giancarlo e Desmeralda Ruspoli. Inizia a lavorare in teatro con suo padre nella prima metà degli anni settanta. Successivamente, sempre a teatro, è diretto da Giorgio Strele e da Sergio Rubini. Debutta come attore cinematografico nel 1974. Nel film Nipoti miei diletti di Franco Rossetti. A fianco di Adriana Asti. Successivamente interpreta. Fra gli altri, Ritratto di Borghesia in Nero. 1977, di Tonino Cervi. Il caso Moro. 1986, di Giuseppe Ferrara. Storia di ragazzi e di ragazze. 1989, di Pupi Avati. E L'Avaro. 1990, per la regia di Tonino Cervi. Con Alberto Sordi e Laura Antonelli. A partire dagli anni ottanta inizia a lavorare in film per la televisione e sceneggiati come Vita. Di Antonio Gramsci. 1981. Delitto e castigo. 1983. Nata d'amore. 1984. Negli anni novanta partecipa alle serie televisive Il Maresciallo Rocca. A partire dal 1996, nel ruolo del procuratore Gennaro Mannino. È un prete tra noi. E alle miniserie TV Il Conte di Monte Cristo. 1998. E Il Maresciallo Rocca è l'amico d'infanzia. 2008. Nel 2009 interpreta Luciano Moggi nel film TV Operazione Offside che narra le vicende di Calciopoli. Negli anni 2000 si è imposto anche a livello internazionale per aver partecipato a importanti produzioni americane destinate al grande schermo, come The Golden Ball, 2000, La Passione di Cristo del 2004 di Mel Gibson, e Ocean's Twelve, 2004, di Steven Soderbergh, nel ruolo del commissario Giordano. È attivo anche nel doppiaggio avendo dato voce a Matthew Modine nel film di Stanley Kubrick Full. Metal Jacket, così come a Geoffrey Rush nel film Sheen. Valzogli l'Oscar al miglior attore. E in Figli della Rivoluzione e Shakespeare in Love. Curiosamente, nella versione italiana del film L'anno del terrore. È doppiato egli stesso da Francesco Pannofino.